Passa come previsto con i soli voti di maggioranza il rendiconto 2020 del Comune di Brindisi. Sono stati infatti 19 voti favorevoli e uno contrario, quello del consigliere della Lega Ercole Saponaro, unico presente tra i banchi dell'opposizione, dopo le polemiche dei giorni scorsi e la nota di 11 consiglieri di opposizione che mettevano in dubbio la legittimità di convocazione con urgenza del Consiglio stesso, annunciando la decisione di disertare l'assise comunale. Proprio in merito alla regolarità della seduta e alla legittimità del carattere d'urgenza, il segretario generale Greco, nel suo intervento, ha ribadito e sottolineato la regolarità, in quanto superare la data del 16 luglio avrebbe comportato il possibile scioglimento del Consiglio e quindi questo obbligava una scelta forzata, confermando le condizioni per legittimare il Consiglio. Nel merito, il rendiconto è stato accolto con grande soddisfazione dalla maggioranza, che ha annunciato l'abbattimento di quasi 5 milioni di disavanzo, scendendo da 54 a 49, di fatto pagando quasi due rate del piano di rientro in un solo anno e riducendo le spese per 7 milioni e osservando un andamento positivo nei contenziosi. Il neo, assessore al bilancio Saponaro, ha spiegato nel suo intervento che per prudenza è stato anche aggiunto un fondo per eventuali perdite delle partecipate ed è stato aumentato il fondo crediti di dubbia esigibilità, per dare un chiaro segnale alla Corte dei Conti della buona volontà dell'amministrazione di riequilibrare i conti.